musica 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 ok mantieni bene la velocità bravissima ho visto che la scena un po' no no basta fare piccole variazioni di potenza ma neanche se tu tiene il parametro corretto lui sceglie giù bene come i flaps vedi che noi stiamo scendendo un po' storti è normale esatto anzi dobbiamo andare ancora un po' più a destra perchè si sta spostando sempre più a sinistra devi avere la pista sotto la gamba destra bravissimo esatto 10 a.m. c'è da Yankee which altitude you will report over color no? una 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 e 10 a.m. c'è da Yankee bella vicino a me non voglio neanche una rossa voglio due bianche e due rosse voglio 50 e 50 bravo posso proprio andare bravissimo ricordate che sarà un volantino a destra e leggermente a piedi sinistra bravissimo, siamo drittissimi così togliamo gole, togliamo gole bravissimo e resta e resta ripamonti ripamonti bravo, troppo bella Grazie a tutti.